Molto contenta, soprattutto perché con questa cosa probabilmente c'è un po' più di calma della malattia, ecco, di questo virus, speriamo bene, però bisogna stare sempre molto attenti. Ma cerchiamo di approfittare, dobbiamo approfittarne, anche perché sono stati chiusi per diverse settimane, quindi se vogliamo far, tra virgolette, girare l'economia locale, dobbiamo approfittarne, anche con poco, ma dobbiamo approfittarne. Io dico che per i commercianti va bene, perché stare tanto tempo aperto, chiusi, è un po'. Però siamo noi cittadini che non sappiamo gestirci, ecco. Sono molto scettica e cauta, perché non ci sono controlli su quante persone stanno nel negozio, quindi è a discrezione molto del negoziante decidere quanti entrano e come entrano. Poi non si capisce perché i ristoranti non devono aprire. Gli hanno fatto fare aggiustamenti, cose, eccetera, per mettere in sicurezza la situazione e poi gli hanno detto di chiudere. Io avrei aspettato, sinceramente, in tutta sincerità. Abitando in questa zona avrei atteso ancora una decina di giorni prima di dire andiamo tutti a comprare, perché ieri era già un bel assembramento.